Benvenuti da Yadita, oggi parleremo di Vigor. Parto col dirvi che Vigor è un videogioco looter shooter, free to play, ambientato in una norvegia post bellica. Questo termine looter shooter è fondamentalmente una dinamica in cui il suo concetto è quello di un bottino. magari vai in giro nella mappa e trovi queste casse dove le trovi dentro degli oggetti che ti serviranno oppure casse che danno delle sfide, battle pass, cose così. Adesso noi siamo in questo mino, un pelatone, c'è il mio amico che mi sta aiutando a fare il video, me l'ho dimenticato di dirlo. Sono qui per esplorare questo gioco, dobbiamo andare in giro, abbiamo la mappa, l'inventario, il fucilozzo dove possiamo sparare il nostro compagno ma non lo facciamo. Possiamo t-baggare in modo strano, guardate come salta da schizofrenico. Adesso scegliamo un punto dove andare, non ne ho idea, proviamo qua a caso, vediamo se troviamo qualcosa di bello e vediamo se riusciamo a luttare. Ancora non so niente di questo gioco, quindi lo testerò insieme a voi, un po' lo recensirò. Oh, qua c'è già qualcosa, una bottiglia di vodka, una bottiglia di vodka. Guarda come corre il nostro mino, tutto felice, col fucilozzo in mano, c'è una bandiera a caso. Questa sarebbe la Norvegia, bella roba. Di giù c'è una casa, direi proprio di andare in quella casetta là, esplorare qualcosa, cerchiamo di fare un po' di parkour. La grafica non sembra malissimo, però sinceramente si potrebbe fare di meglio, per carità. Vediamo se troviamo qualche bug. Lo mino fa dei salti enormi comunque. Guarda, guarda che salto che fa. Andiamo bene. Mamma, vabbè, tutto normale. Facendo parkour, andiamo. Con questi salti enormi, guarda, guarda, guarda. Oddio, mi sono buggato. Sto fluttuando. Sì, questo è quello che voglio, è questo che mi piace. Guarda com'è bello il mio mino che fluttua. La farò scavaltare, no? Ah, sì. Ah, posso. Allora, vediamo. Il mio amico va dentro la porta, io cerco di esplorare in casa. Entro. Eh, buongiorno. Ah, possiamo scassinare le finestre da fuori. Interessante. Noi non apriamo la porta perché noi siamo incivili, quindi entriamo dalle finestre. Qui c'è un loot. Abbiamo dei componenti, delle cose che non conosco, però vabbè, noi le prendiamo lo stesso. Possiamo aprire le finestre così entra un po' d'aria. E sembra non esserci nient'altro. Mi aspettavo molto di meglio, solo un oggettino ho trovato. Continuiamo ad andare in giro allora. Il mio compagno è gironsola. Non sembriamo aver trovato chissà cosa. Lui spara a caso. Ah, io c'ho il pompazzo, eh. C'ho anche il coltellino. Cazzo. Ah, bello. Allora, andiamo in giro col fucile. Qua dentro c'è qualcosa di interessante? Non sembra. Faccialmente queste case sono prive di lutto, cioè... Potremmo metterci qualcosa in più. Il Titanic, questo è il Titanic 2.0, signori. In teoria da qui si può entrare, vediamo. Sento già degli spari non promettenti. Ho del loot. Ho preso delle cose, non so manco che cose sono, però... Che cos'è? Ah, la cassa! Il nostro compagno ci ha fatto vedere. Questa qua sarebbe una cassa appunto dove trovi il loot. Ci sono delle armi. Vediamone quale armi possiamo prendere. Prendiamo... L'RPK a caso prendi. Adesso lasciamola ad amico nostro. Ma vi interessa qualcosa. Qui altro lutto, prendiamolo. Uh, una cassa già aperta. Potrebbe significare che ci sono dei giocatori nei dintorni, eh. Andiamo a prepararci a sparare. Eh, laggiù ho visto qualcuno. Ci sono due giocatori lì giù. Non sembrano averci identificato. Cosa vogliamo fare? Li proviamo a scannare, che ne dici? Ah, in questo gioco, da quel che ho capito, se muori perdi tutto. Quindi potrebbe essere un problema se moriamo, eh. Però proviamoci. Vediamo che faranno se vengono qua. Quei player sembrano essersi dati? Se ne sono andati? Sì. Che roba è questo? Va bene. Andiamo avanti. E non c'è niente neanche qua a posto. Molto utile questa casa, eh. Molto, molto utile. Ah, allora, da quel che ho capito, adesso sta arrivando un pacco da Babbo Natale. Sì, ma non so neanche io perché c'è Babbo Natale. Quindi mi sa che è meglio che ce ne andiamo. Seguiamo il nostro compagno, vediamo dove ci porta. Ah, da qui si abbandona la zona. Usciamo, vai. Andiamo ce n'è a casa prima che arrivano a romperci. Guarda il pelatone. Allora, adesso stiamo andando nel nostro rifugio. Quindi veramente nella nostra casa dove non possiamo morire se abbiamo tutte le nostre cose. Da quel che ho capito dobbiamo migliorare il nostro rifugio per andare avanti. Poi tramite appunto queste partitozze online ti trovi le cose e le porti qua dentro. Se muori ovviamente perdi tutto. Allora, ecco questo qua il nostro rifugio. Vedete, non ci sta nessuno. Siamo solo noi, la nostra bella casetta. In tranquillità, qui c'è il cubo di Rubik. Guarda che bellino, lo possiamo risolvere. Andando di sotto di qua, a questa parte, interagendo con questo, il tavolo da lavoro, dovremmo poter migliorare la nostra casa in qualche strano modo. Per migliorare il nostro rifugio dobbiamo fare queste migliorie qua. Vedete, per migliorare bisogna raccogliere i materiali. Quelli che avete visto prima. Vediamo se possiamo fare qualcosa. No, sono troppo povero. Non posso fare niente. Eh, vabbè. Questi che vi sto per elencare sono degli argomenti che ho fatto mentre giocavo. Il gameplay è molto noioso. Bisogna girare nella mappa in cerca di loot. Loot che è praticamente inesistente. Per quanto riguarda il P.O.P. la mappa è grande e ci sono pochi giocatori. Pertanto è difficile fightare. Per di più, il personaggio muore con pochissimi colpi. E ciò rende il P.O.P. ancora più inadatto al gioco. I sciopponi sono molto più avvantaggiati del pelene normali. Essendo che questi possono comprare soggetti, non perdere il loot ed aumentarlo. In più possono avere armi che gli altri non hanno. Allora, partirò col schematizzarvi il sistema di lutto in tre parti. Cioè, partendo da case, pacchi e giocatori. Prima di tutto, partendo dalle case, ci sono tantissime case nella mappa. La mappa ovviamente è enorme. Ed è piena di case tutte uguali. In cui non c'è una beata minchia. Non c'è assolutissimamente niente. Tu puoi entrare nelle case, ma su una casa su dieci ci sarà un qualcosa dentro. Che poi è anche un qualcosa di inutile. Quindi le case sono altamente inutili. Nella seconda parte ci sono i drop. I drop sono delle cose che vengono lanciate dal cielo in alcuni punti della mappa. Da degli aerei o cose simili. Tipo i battle royale o cose del genere. Scendono e tu da lì puoi andare a prendere gli oggetti. Che lì c'è un minimo di loot, quindi è anche abbastanza decente. Però i giocatori saranno tutti ammucchiati e cercando di rubarsi il loot. Quindi fate molta attenzione. Poi infine la terza parte è quella più classica penso che dovreste sapere tutti. Che è quella ammazzando i giocatori. Ammazzando i giocatori riceverete il proprio loot. Quindi tu ammazzi il giocatore e prendi le sue cose. Pur non essendo una grafica maestosa e spettacolare. La grafica di questo gioco per un gioco free to play è alquanto più che decente. Anche se ci sono innumerevoli bug grafici. Come ad esempio posso elencarvi quello del fucile che o entra dentro un cappuccio. Cioè viene una cosa un po' brutta. Oppure l'albero. I rami degli alberi che entrano sotto la terra. È un qualcosa di inaccettabile. Del resto va bene. I personaggi di questo gioco non so per quale strano motivo. Sono tutti fottutamente pelati. Ogni singolo personaggio non ha i capelli in capoccia. Adesso io mi chiedo per quale motivo fare ciò. In più anche se tu cambi un personaggio. Ad esempio ti metti il secondo il terzo il quarto. Hanno tutti i stessi fottutissimi abiti con lo stesso colore. Non cambia niente. Potevano avere un po' più di creatività. Invece magari quello viola quello rosso quello verde. No invece tutti con lo stesso colore. Il voto personale che do a questo gioco è un 5. Il semplice fatto è che fa schifo. Come survival fa letteralmente schifo. Non soddisfa tutte le cose che un survival dovrebbe avere. Anzi Mario le soddisfa anche. Ma in un modo orrendo. Dove è assolutamente da modificare. La prima cosa per cui potrebbe andare bene è che è gratis. Perché se non fosse stato gratis. Io non ci avrei speso una lira su questo gioco. Il video di oggi è terminato. Ora me ne torno nella mia caverna a fare un pisolino. Ma prima vi ricordo di non iscrivervi al canale. E non attivare la campanella delle notifiche. Un saluto dagli Atita.